Qua alla fine è un'astronomica, un'astronomica, il problema è che loro devono segnare il meno possibile, ridurre le possibilità di recuperare. E sugli ordini del cazzo ti faccio perdere, oppure Giuliano è nata, sempre rubato il cazzo, tu vedi sei un vantaggio, e non ti faccio perdere, non ti faccio perdere, non ti faccio perdere, non ti faccio perdere, non ti faccio perdere.